è un impegno di tutte le istituzioni comuni per non solo evitare che questo accada ancora ma per aiutare chi è stato colpito. Io ringrazio il Sindaco per aver voluto avere oggi una giornata di lutto cittadino. È chiaro che questa comunità proprio in un momento di ripartenza come tutto il Paese è stata particolarmente colpita da questo evento e ha dimostrato già nelle ore scorse un grande senso non solo di responsabilità ma anche di partecipazione. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. a live stream for global news coverage, documentaries, interviews deep dives and shows on the stories che ti care più oltre.